I primi a scoprire la positività del covid sono stati quattro invitati quando la coppia di sposi era già in luna di miele. È partita così la preoccupazione dei giovani convogliati a nozze e dei 190 partecipanti. Avevano tutti il green pass ma pochi giorni dopo il matrimonio i quattro che si erano seduti in altrettanti tavoli diversi sono risultati positivi al virus. Difficile però accertare che il cluster abbia avuto origine in quella cerimonia perché il giorno dopo si è disputata la finale degli europei di calcio. Immediatamente è scattato il lavoro dell'Asur Area Vasta 1 per comunicare l'obbligo di quarantena a coloro che erano entrati in stretto contatto con i giovani. Nei giorni scorsi poi molti si sono sottoposti al test rapido e al tampone molecolare. Al momento i casi sono 15 in totale, sono persone paucisintomatiche, qualcuno con qualche sintomo un po' più importante, soprattutto nelle persone non vaccinate ci sono sintomi un pochettino più importanti. E' riguardato anche qualche bambino che ovviamente non ha potuto vaccinarsi ma fortunatamente sta bene. E gli altri erano vaccinati? Gli altri sono vaccinati o parzialmente vaccinati o vaccinati ormai con ritardo che la seconda dose, ma insomma era molto tardi la seconda dose oppure era appena stata fatta la seconda dose. E quando vengono riscontrati dei focolai oppure dei positivi già vaccinati c'è un ulteriore sforzo da parte dell'Asur che si impegna di inviare subito il campione ad Ancona per sequenziare il genoma del virus e verificare se si tratti della variante Delta ad oggi predominante. Solo in questo modo infatti è possibile avere un quadro preciso della sua diffusione nel nostro territorio. Allora in realtà la circolare nuova prevede che il tracciamento è sempre lo stesso quindi la ricerca dei contatti stretti anche in caso di variante sono sempre le 48 ore prima. Però diciamo che davanti a una variante visto che c'è una contagiosità maggiore e a fronte anche di un eventuale focolaio c'è una certa discrezionalità dell'operatore quindi possiamo andare anche oltre le 48 ore. Se una persona poi dovesse finire nella lista dei contatti stretti di un caso positivo a variante dovrà fare la quarantena di 14 giorni un tempo che può essere ridotto con un tampone rapido o molecolare a partire dal decimo giorno. Noi ovviamente consigliamo in questi casi di fare un tampone molecolare perché è più possibile l'eventuale sequenziamento della variante. Cambia per la persona positiva. La persona positiva al momento della circolare di maggio del 2021 del ministero ci dice che la persona positiva non può terminare l'isolamento con il discorso dei 21 giorni ma deve terminare con un tampone negativo. E quindi a volte si prolunga molto l'isolamento per queste persone perché è una contagiosità diversa rispetto alla classica variante.